Ciao a tutti da Filippo Giannini di Trading Facile e ben ritrovati dopo la pausa natalizia alla nostra video analisi sui principali mercati e le strategie dei nostri Trading System oggi è mercoledì 12 gennaio 2022 oggi faremo un recap di quanto accaduto nel corso delle ultime due settimane sui principali listini, quindi una panoramica sia su Europa e sia su America prima di iniziare uno sguardo veloce al nostro sito www.tradingfacile.eu per vedere insieme quali sono i prossimi appuntamenti gratuiti qui sotto gli eventi della settimana trovate i link per iscrivervi alle prossime dirette il primo webinar sarà lunedì prossimo 17 gennaio alle ore 18 parleremo dell'importanza del money management e poi avremo un secondo appuntamento lunedì 31 gennaio sempre alle ore 18 per parlare di break even stop e trailing stop quindi mi raccomando iscrivetevi per tempo in maniera tale da ricevere poi il reminder sulla vostra casella di posta elettronica bene come detto oggi recap un po' su tutti i principali listini che seguiamo cominciamo dal Fuzzimib Fuzzimib che in questo momento sta scambiando al ribasso ma in virtù di un'apertura in gap up viaggia sulla parità rispetto a quella che è stata la chiusura di ieri qual è l'impostazione di fondo del Fuzzimib? beh sicuramente è un'impostazione rialzista e questo in virtù appunto del sia dell'aggiornamento mercato che ha già aggiornato i precedenti massimi del 2021 con questo strappo avvenuto tra il 3 e 5 gennaio scorso ma anche in virtù del fatto che a livello tecnico vedete come il mercato di fatto abbia completato questo modello di accumulazione a doppio minimo decrescente quindi questo è un modello di implicazione rialzista modello che è stato completato il 28 dicembre scorso con il break di quota 27.170 punti mercato che poi da qui ha aggiornato i precedenti massimi in questo momento il mercato sta cercando di consolidare appunto in area 27.5 qui c'è da sottolineare la reazione del mercato su un livello che ritenevamo importante già segnalato in un precedente articolo a inizio settimana sempre sul nostro blog e qui la reazione del 10 gennaio scorso dove sui livelli appunto di apertura di questa barra rialzista ad ampio range, barra che poi aveva dato il là appunto all'aggiornamento dei precedenti massimi e quindi qui sicuramente questi acquisti appunto a quota 27.250 dimostrano che comunque il mercato è ancora tonico, un mercato che sicuramente in questa fase non è protagonista di grossi strappi al rialzo, questa è una considerazione generale che vale un po' su tutti i mercati, quindi mercato nel quale, lo vedremo anche per il DAX e ancor più per i mercati americani, mercati dove trovano poco spazio le operazioni appunto in breakout proprio perché il mercato è caratterizzato comunque sia da ampiezza di swing medio, quindi sia swing al rialzo che al ribasso di ampiezza superiore rispetto a quello che è stato l'andamento monocord nel corso del 2021, questo se vi ricordate per chi ci segue è comunque un qualcosa del quale avevo già parlato, un comportamento del quale avevo già parlato prima della pausa natalizia e secondo me è un qualcosa al quale dovremmo abituarci, ovvero per esempio se prendiamo l'SP500 vedete che il mercato, l'SP500 ha fatto nel corso dell'ultimo mese e mezzo già tre swing al ribasso di ampiezza pari o superiore a circa il 4% e è un qualcosa di anomalo rispetto a quanto accaduto nel corso del 2021 dove già appunto delle correzioni di ampiezza pari all'1-1,5% venivano puntualmente ricomprate, quindi abituiamoci a un mercato maggiormente volatile e soprattutto abituiamoci a un mercato non più caratterizzato da forti strappi al rialzo alternati da piccole correzioni ma appunto abituiamoci ad un mercato che molto probabilmente sarà caratterizzato sì da importanti mosse al rialzo ma altrettante appunto correzioni di ampiezza comunque sia superiore rispetto a quanto accaduto nel corso del 2021. Per quanto riguarda il Fuzzi Mib concludo dicendo che secondo me questo minimo di swing del 10 gennaio scorso detta in questo momento le fila del mercato quindi anche a fronte appunto di eventuali correzioni come appunto quelle della giornata odierna quota 27,4, 27,3 fino a 27,2 sono livelli comunque dove andare a cercare delle basi di accumulo in 3 day per rientrare long quindi con delle operazioni non in breakout ma piuttosto dei buy limit quindi degli acquisti appunto sulla debolezza. Chiaro che se il mercato dovesse tornare sotto quota 27 e 150 quindi rompere al ribasso il minimo del 10 gennaio scorso a quel punto ci sarebbe secondo me da attendersi una mossa ulteriore al ribasso detto questo ritengo che comunque area 27.770 punti e più in basso area 27.300 punti sono comunque dei livelli dove andare a cercare comunque delle operazioni long a basso rischio perché in quest'ottica soltanto una chiusura settimanale sotto quota 25.000 punti decreterebbe uno stop definitivo agli acquisti e un'inversione di trend. Il mercato che vedete anche a livello grafico a quel punto uscirebbe da questo canale appunto ascendente che ha contenuto appunto i movimenti appunto di salita a partire dal 20 luglio scorso e quindi soltanto una mossa di questo tipo decreterebbe un'inversione di trend. Passando al DAX la situazione è grosso modo analoga anche qui mercato di impostazione di fondo rialzista dettato dal completamento di questo modello a doppio minimo decrescente anche qui mercato che vedete non è riuscito a strappare violentemente dopo aver completato al rialzo questo modello e quindi dopo un massimo a 16.250 subito pullback sui livelli di rottura quindi anche in questo caso mercato da secondo me tradare più in buy limit quindi con degli acquisti sulla debolezza piuttosto che acquisti sulla forza detto questo anche qui eventuali ulteriori pullback fino a quota 15.750 passando prima per 15.830 e 15.940 possono costituire occasione per acquisti più a basso rischio in questo caso soltanto in caso di chiusure settimanali sotto quota 14.900 punti avremo un'inversione di trend. Chiudiamo con i future di Wall Street qui come ne abbiamo già parlato all'inizio mercato caratterizzato anche qui da l'impostazione di fondo rialzista seppur con una volatilità in deciso rialzo soprattutto con movimenti di swing a ribasso di ampiezza maggiore rispetto a quanto abbiamo visto nel recente passato qui c'è da sottolineare un'importante reazione quindi questa candela resistiva di tipo Hammer fatta appunto sia su SP500 sia su Dow Jones che va detto in questa fase è il listino maggiormente resiliente quindi questo sicuramente anche in virtù di logiche di tipo rotazionale quindi in questo momento il Dow Jones è il listino più forte tra i tre listino che ha visto una correzione minore rispetto a SP e Nasdaq e quindi anche quello che se vogliamo presenta le migliori occasioni lato long da registrare appunto questa reazione del Nasdaq quindi questo Hammer questo martello dopo aver testato quota 15.200 punti mercato che è riuscito a fare oltre 400 punti di rialzo dopo appunto questi minimi questa sicuramente non è una situazione usuale ben poche volte si è visto il Nasdaq fare un martello quindi un recupero tale insomma ecco dopo aver dopo una discesa in intraday e quindi questo secondo me è da intendere come un segnale di tipo rialzista occhio però perché il mercato appunto prima di riprendere la corsa verso i massimi qui secondo me dovrà affrontare ancora delle difficoltà perché perché in caso di ritest di quota 16.150 sul Nasdaq quota 4.750 su SP su Dow Jones invece parliamo di quota 36.350 su questi livelli il mercato potrebbe andare incontro a delle brezze di beneficio e quindi diciamo ecco prima di andare poi a ritestare dei precedenti massimi storici dovrebbe esserci spazio ancora per vedere il mercato tornare a scambiare su livelli diciamo ecco non troppo lontani rispetto anche qui ai minimi del 10 gennaio scorso però anche qui fino a che il mercato rimarrà a scambiare al di sopra di questa candela resistiva quindi tenete buoni questi minimi del 10 gennaio scorso il mercato rimarrà chiaramente di impostazione rialzista e quindi anche qui acquisti sulla debolezza sono da prediligere quali sono i livelli di inversione settimanale per Dow Jones SP e Nasdaq sono quota 4.350 punti per l'SP500 per il Dow Jones quota 33.300 punti mentre per il Nasdaq abbiamo che la soglia di inversione settimanale è posizionata a quota 14.600 punti bene andiamo adesso come al solito a commentare alcune operazioni svolte nella giornata di ieri dai nostri trading system giornata molto volatile soprattutto sui listini americani vediamo prima però una operazione aperta sul DAX e la vediamo con il supporto del grafico del DAX Future scadenza marzo 2022 a 5 minuti e qui l'algoritmo è entrato a mercato alle 9.25 sul recupero appunto di quota 15.900 punti siamo entrati a 15.912 operazione che è stata poi portata in overnight è chiusa alle 8.800 punti quindi circa 100 punti di gain sul DAX Future vedete che il DAX ha continuato poi a scambiare al rialzo in overnight quindi qui abbiamo chiuso sull'apertura della sessione appunto del pre-cash vediamo poi una serie di operazioni aperte sul mini Nasdaq prima parte di sessione caratterizzata da debolezza qui prima operazione aperta alle ore 12 a quota 15.713 e chiusa alle 14.53 a quota 15.598 punti anche qui andiamo sul Future con scadenza marzo 2022 vedete mercato appunto debone nella prima parte di sessione in questo caso contestualmente alla chiusura della prima operazione il sistema fa stop and reverse quindi apre un long a quota 15.598 per chiuderlo poi a quota 15.716 a 17.15 e qui poi vedete che viene riaperto un nuovo short 15.716 questa operazione che viene però chiusa appunto in stop poiché il mercato si rende protagonista nell'ultima parte di sessione di appunto uno swing a rialzo piuttosto di ampiezza piuttosto importante comunque questo non mette a repentaglio quella che è comunque la performance giornaliera del sistema un'altra operazione che vediamo invece di un differente trading system che è riuscito a interpretare meglio le diverse fasi di trend nel corso della giornata di ieri qui prima operazione aperta a quota 15.708 a ribasso chiusa alle 15.18 15.546 seconda operazione in questo caso long aperta a 15.539 quindi in questo caso abbiamo aperto alle ore 16 vicino ai minimi di giornata operazione long che poi è stata portata avanti fino alle ore 17 chiusa a quota 15.573 punti bene io vi ricordo che tutta l'operatività dei nostri trading system la trovate su www.tradingfacile.eu per qualsiasi informazione ci potete scrivere a infochiocciolatradingfacile.net hashtag tradingfacile ci potete seguire sui principali canali social quindi canali youtube facebook e telegram anche per oggi è tutto un caro saluto da Filippo Giannini e buon trading www.tradingfacile.eu 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 www.tradingfacile.eu